Sono 20 i sbarchi registrati a Lampedusa in 24 ore per un totale di 2.128 persone trasferite all'hotspot dell'isola, la cui capienza massima è di 250 posti. Tutto è iniziato alle prime ore del mattino di ieri, con i primi avvistamenti e arrivi che col passare delle ore sono aumentati, mettendo a dura prova le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. A mezzogiorno di ieri erano già circa 1000 le persone sbarcate a Lampedusa, fino ad arrivare ai quattro barconi con a bordo 635 migranti sbarcati durante la notte. Poco prima di mezzanotte una motovedetta della Capitaneria ha soccorso un peschereccio con a bordo 352 persone di varie nazionalità a 9 miglia dalla costa. A ruota un'altra motovedetta ha trasbordato lasciando l'imbarcazione alla deriva altri 87 uomini intercettati a 15 miglia. Alle 3.20 sono sbarcati 101 migranti, tra cui 10 donne e 3 bambini soccorsi a 12 miglia. In contemporanea sono arrivati altri 95 i migrati, tra cui 3 donne e 5 bambini. Secondo gli investigatori, quasi tutti i barchini provengono dalla Tunisia, mentre due pescherecci con circa 400 persone a bordo sarebbero partiti dalle coste libiche. Intanto la prefettura di Agrigento è al lavoro per pianificare l'evacuazione dell'hotspot, previsto per oggi il trasferimento di circa 200 migranti a Porta Empedocle con il traghetto di linea, ma la maggior parte dei migranti dovrebbe essere imbarcato su un navi quarantena, come prevedono i protocolli anti-Covid.